Ve la ricordate la bambola di Squid Game? Oggi Lucky Block suoi contro quelli di Amogus! Ok, oggi è una sfida, grande sfida! Silenzio! Lucky Block di Amongus contro Lucky Block di Squid Game! Papà B! Oh wow! Bellissimi tranquanti! Ecco, noi saremo da questo lato! Allora, voi sì, voi state dalla parte di Squid Game che fa schifo e proprio tipica per persone che sono scazze comunque! Ma cosa vai dicendo? Adesso li facciamo! Voglio vedere io quando piangerete! Sì, 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 sì! Allora compare, tu vai sul tuo blocco! Ma io sono già pronto qui, guarda! E l'altro quando ti apre il primo della tua isola, Lionel Fiery! No, 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 no! Sei sicuro? 100%? Sì, sì, assolutamente! L'ultima volta hai portato Siga! Un attimo! Cos'hai? Fretta? Hai le pulci nell'ano? Dio, fai te li vincele proprio! Oddio, questo non lo devo dire! Scusate, chiedo scusa un po' a volgarità oggi! È l'anno nuovo, volgarità nuova! È perché sai che stai per perdere! Io ti sento un po' pruricare! Allora, pronti? Apriamo il primo blocchettino! Vado prima io! Oh, sì, una bonus! Ah, bello, grande! Sì, proprio come... Cos'è succede? No, che succede? Ma tu, ma... No, Lionel, ti salvo io! Cicco! Cicco! Non posso, non posso salvare! Sono variegati! Ma aiuto! Si stanno distanziando, attenzione! Ok, 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 va tutto bene, ammazzo anche quello grande! Allora, partiamo già male! Io mi auguro che questa volta non siete voi ad avere quelli buoni! Perché l'ultima volta mi ricordo... Dai, ma c'è già morto! Dai, guarda! Ascolta, imbecille, sei morto con dei gatti! C'erano solo dei gatti sulla tua isola! Allora, hai scelto tu di nuovo il tuo compagno di squadra! Ma infatti, perché sei tu con me? Perché ci sei tu con me? No, perché mi hai scelto tu! Oh, facciamo a scambio! Vengo io da te! E perché Anna sta parlando in Giappone? Com'è possibile? Ah, ti chiedo umilmente scusa, perché ero sommersa da una montagna di smeraldi, scusami! Cioè, Anna è completamente impazzita in questo nuovo anno! Oh! Allora, non ti permettere, tieni basse le tue aluce da pinguino, hai capito? Ma la nuova è meglio, dai, è molto meglio! Sì, aspetta, io stavo arrivando, sono andato in lì, sono andato in Alex, ma sbaglio! Sei morto due volte, sei morto solo tu! C'è, posso dire di sì! È uno scarso pauroso! Però, aspetta, la tattica è questa, morire all'inizio per non morire mai più, capito? Ma fai schifo, inoltre sento tutto il mercato che fai con quei tasti! Ne imbecille! Ma capissimo! Ma dai, basta fare questo mercato, ragazzi! Ma come è possibile? Facciamo i scambi, facciamo i scambi, vengo io! Ho buttato la tastiera, adesso uso il touchpad, ecco qui, adesso... Perché sei tutto fermo, ingessato? Cos'è che succede? Eh, non posso usare niente, ho paura di muovermi! Non so cosa fare, non vai! Hai schifo! Dai, non, 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 non! Perché devo averlo io? Prendi me, prendi me! Cicco, io mi sto stancando di avere a che fare con te! No, no, Lion, guarda, posso risolvere pienamente, guarda, anche in modo facile! Vengo da te, così, ecco, guarda qui, ecco! Sono qua a fiancate! Adesso giocheremo insieme! No, no, dai! No, sto scherzando, Lion! Guarda, ti giuro, se ti avvicini, ti crivello! Non venire, eh, non venire da me! Con la tua sfida! Io te lo sto dicendo, eh, io ho buoni doni per te, se vuoi, quindi puoi adottarmi! Vattene via! Ti ho portato fortuna io, però ero qui a guardarti! Ma porca di quella tua sorella! Guarda che mi hai fatto morire con la tua sfida! No, 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 Lion, ti giuro, con la tua presenza stigogena! Lion, caccia, l'arrivo io ad aiutarti! No, ormai il mio membro del team è lui, quindi io voglio lui, non voglio... Ed è per sempre il mio membro! E io me lo tengo! Io voglio fare uno scambio! Sì, ma tu perché sei sottile? No, ma cosa succede? Perché sei sottile? Ma da quando è... Come sono sottile? Oddio, è vero, perché? Ma cosa è successo? Come va, Alex? Ma tutte le feste ci si mangia, perché non sono più sorella? Ha fatto evitato le feste! Ma cosa lo faccio vedere anche io? Com'è sottile? Io non l'ho notato mica! Eh, sei sottile! Perché sei sottile? Quando è successo? È vero, guarda! Cosa ci fa? Ho avuto le braccia, non ho più sollevato niente per quello! Eh, prima invece sollevavi un sacco di cose tu, eh! Eh sì, di brutto, eh! La tua dignità perché è sottoterra! No, dai! Anna, te ne dovresti andare però, perché... Oh, stiamo facendo il cambio qua! E stanno tutti qua! Mi sentivo solo! E stai sola! Stai sola! Ok! Prego, magro! Alex, il magro! Io ho un sacco di cose, però prima voglio vedere che cosa hai tu da dare per me! Io questo! Allora, vediamo subito, eh! Ah, un bastone! Mi piace! No, non è un bastone! Ma quanto è lungo! Scusami! Scusami, hai rotto le palle! No, no, dai scusami, non portarei! Cioè, mi giro un attimo e stai esplodendo! Due secondi dopo fai il rumore con la tua tastiera da imbecille con la tua dita da goblin! Almeno non ti ho ucciso stavolta, almeno! Guarda, dammi quel bastone! Dammi quel bastone! Questo è il trampolino! Questo è il trampolino di Squid Game! È una faccia migliore della tua! È bello, me ne vado! Oh, sono contento che tu sia contento! Sì! Avrei un problemino! Qual è il tuo problemino? Sono io? Lo sto portando da te il mio... A parte, vabbè, tu sei un grande problema, ma che piace avere! Lui è il mio problemino! È una Mogus Bob! Ma è bellissimo quello! Dovrebbe stare dalla mia parte, però! Ed è molto forte! No! Anna! È immortale! Mi sa che è immortale! Gico, intervieni! No, fai qualcosa! Wow! Vai! Vai! Aiutarti! Vai! Vai! Sono io! Di pesanza! Lei non è potente! È potentissimo! È potentissimo! È portale! È portale! È potentissimo! Mi ha scritto nel nome! Adesso ci torno al bastone in mano, porca miseria! Lo strambo! Tanti strumbo! Ah, i calzoni! Parano i miei! Ridano i calzoni! Vieni che! I calzoni astro! Astro calzoni bellissimi! Io rimane voglio gli astro calzoni! Allora, dovete andare voi altri due! Vieni, Cico! Stiamo andando! Finalmente collaboriamo! Finalmente! Oh mio Dio! Ma questo qui è il tronco della bambola! Cico! Dai, non mi stroncano! A me mi stroncano! Ma non è possibile, Cico! Sono troppissimi! Ma sono pure i bambini! Dai, tu hai calzoni infiniti titanici! Utilizzali! Picchiali con questi! Sono caduto di sotto! Allora, facciamo un riepilogo delle morti! Perché mi sembra che stiamo andando particolarmente male, comunque, rispetto al solito! Ma sì, allora, perché tu c'hai Cico in squadra? È sempre la stessa storia! Senti, ma tu hai un'arma perché mi sembri... Assolutamente! Ne ho una bellissima! Wow! È una di Amogus! No, ho sbagliato! No, no, tu non la vuoi questa arma! Tu non la vuoi! Va bene, scusa! Non l'ho fatto per niente a posto! Ah, ma... Scusate, ma che... Allora, devo arrivare! Sto arrivando! This is arrabbiating me! Però... But I don't arrabbiate! Ahia! Butta una... Ah, bene, quello slime è bravo! Scambio, scambio! Cos'è il cambio? Perché io l'ho bella bellissima! Ti do questa... Ehm... Ehm... E l'alala! Eh! Sì, sì, è che sta arrivando! È bella grossa! È bella potenza questa! C'ho... Questa testa di Amogus! E ce l'ho pure io! C'è l'ho bella quella! Allora c'ho questa! Eh? Di creeper! Bellissimo questo! Wow! Sì? Butta, butta! Allora tieni! Usalo con un coltello e non su di me! Va a vedere! Uh! Seria anche questa! Il coltello dell'impostore! Provalo io! Vichissimo! Scusa Alex! Volevi qualcosa? Vieni che ti aiuto! Volevo quel coltello lì! Oh, è bello! Sì, te lo do! Te lo do! Te lo do! Perché tu prima mi hai dato il tronco della bambola! Quindi adesso... Ah! Perché il zapparello è stato esisteso! Ma no! No, Cico! No, Cico! Smettia! Ma guarda qui che c'è! Ma va là! Ma guarda già! Ma basta! Ma va basta! Guarda lì cosa hai foccato! Ma basta! Allora ascoltami! Stiamo andando bene! Anna meno! Però noi stiamo andando bene! No, no! Ho trovato una cosa bella per te! Te la sto contando! Ti ho appena visto! E lo sei andato bene! È stato bellissimo vederti da lontano! La 2! Come ho detto Cico! Fai il rock! Ma lo so stato io! Scusami! Il rock! È una rock tara! Guarda che ti ho creato! Guarda che ti ho creato! Ah, grazie! Gentile! No! Attento! Non volevo! Ma tu ha sorella Anna! E ti rendiamo un cazzo nella tua isola! È vero! Oggi non c'eravamo un cazzo in Ciccato e l'isola di Cicco! Ma sei un imbecile! Te lo crivello io! Te lo crivello io! Devi stare tutto tranquillo! Va tutto bene! Bell'uomo! Oh mio Dio! Ma che cavolo! Ebbia! Ma ne ho messo io! Ebbia! Ma sono l'infinita proprio! Che ho fatto! Bell'uomo ho un dono per te! A parte quello! Eh che cazzo! Eh! E tutto è una cosa che non se ne poteva più! Ebbia! Cosa hai preso te! Oh! Questo si adatta bene ai tuoi pantaloni! Ma vaffanbagno! No questo me lo prendo però! Che bello! Altro? Qualche freccia? Questa qui! Beccati questa! Allora questa te la scambio con questa Golden Apple! Oh grazie mamma mia! Che preziosa quella! E poi basta perché non ho altro! Ti aggrada! Ti piace! Provalo! Sì! Sembra bello! Oh bellissimo! Il bastone da passeggio del frontman! Chico vieni! Te lo provo! No no! Non passeggiate! Non passeggiate! Non passeggiate! Non passeggiate! Sono morto 20 volte già! No 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 basta! Ti scaglio il canino addosso! Ti scaglio il canino addosso! Fuga fuga! Discreto discreto grazie! Sono pieno di armi io adesso eh! Anche questo! Urca guardate! No no basta però! Basta dai! Dove mi sono finito? No qui hai sbagliato Anna a darmi questo arco soprattino eh! È troppo forte? Sì è molto molto potente! Non fare Raio non fare così! Non fare te le pentirai! C'ho un dono per te! Va bene fai vedere che cosa porti con te! Con le tue tasche belle! Risorse! Ma perché mi dai le risorse? Avete di nuovo i blocchi giganti? Perché ce n'ho tanti! Non mi dì! Ma poi ci portiamo noi quelli Raio! Qualcuno se ne è dimenticato quando ha preparato la nuova isola! Quindi voi avete di nuovo quei blocchi che sdroppano i diamanti interi! Guarda guarda! Allora per pace ti invito nella mia isola! Ma per pace cosa? Che Cico è morto già dieci volte! Vieni vieni vieni! Allora guarda! Preleviamo un po' di blocchi da loro! Vieni da me! Vieni da me! Vieni! Sì? Allora devi aprire questa cassa qua! Questa qui! Questa! Ah! Ah! Ma è una trappola! No 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 no! Lascia stare quella! Lascia stare quella! Lascia... È meglio questa! Fidati! Cosa sono queste singolarità? Fidati! Un attimo! Aspetta! Lascia stare questa! Vieni qui! Questa! Questa! Boh! Va bene sì! La vado ad aprire questa! 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 Questa è piena di soldi! Non me lo dico! No ve lo! Ma vostre sorelle! È un vero imbarazzating però eh! Ma che cavolo! Io ne ho fatti un paio dai! Io fallo anche tu! Ma Raffa! Raffa! C'è qui! Benvenuti! Prendete pure a pieno in mani! Ma la prossima passate a poco fa questa roba! Bisogna assolutamente rimuovere questi lucky block fortunatissimi! Questi qua non vanno bene! È troppo! È troppissimo! Sono eccessivi e a noi capitano sempre quelli sfigati e a voi sempre quelli eccessivi! Non capisco perché! Mi sto stancando! Allora che siamo fortunati io e Anna ecco perché! E poi tu fai stifo! Ma perché ti parti a presto cinico? Sì è vero! Io guardo i pantaloni tuoi così sono abbinato ti prego! No! Non ti do niente! Dai ti posso dare qualcosa in cambio questa le ali così metti a volare! No non le voglio! C'ho i pantaloni miei! Ma vaffan bagno! No sono infiniti! Prendi il via! Prendi il via! Aiuto! Sto morendo! Arrivo! Arrivo! Ma porca tua madre è in bottiglia! Arriviamo a salvarti! Dai io ti salvo io a te! Sto aiutando! Scavatemi! Di più! Di più! Di più! Sì! Vai toglilo! Toglilo! Bravo! Vai esci! Esci! Grazie! Mi la sei salvato! Grazie mille! No! Ma questo era cattivo eh! Era cattivo quello zombie! Oh eccolo qui! Ah meno male che mi posso vendicare eh! Su di lui! No non ero io! Ma basta! Ma che... Cico ma porca tua sorella! Ma questo sei tu! Vedi che non sono solo io! Ho svegliato vedi! Ma guarda ma che schifo! Cico ma com'è possibile che si muoia così? Nadia ti ha voglio! Ma basta! Cico fai qualcosa! Aiutami! Cico ma intervieni! Non sto capendo lui da più! Non sto capendo di rimorti! Cico ma sono troppo pieni questi blocchi! Sono solo nostri! Sei morto pure ma che fai schifo! Mi hai buttato via tu! Mi hai buttato! Ma non è vero! Ma quando mai? Ma 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 ancora! Ascolta vabbè! Facciamo che va bene! Perché... Cosa cosa cosa? Non lo so! Che cosa era? Era un temone superiore! Guarda dai cosa c'ho io! Eh! No! Madonna! Bellisto! Anche io ho trovato l'arco come quello tuo! Amici! Vi esorterei a fermarci! Poiché abbiamo raggiunto tutti quanti un ammontare di danaro illimitato! Spendiamo finalmente la parte di milione del video! Direi quasi illegale! Ma assolutamente! Io sto spendendo di brutto eh! Lo sai Anna che cos'altro è illegale in questo video che... Te l'ho già detto ma non è... Dimmi tutto che voglio sentire un po' di cose illegali! Che se tu ti sposti un'altra volta dal microfono... Perché lo stai facendo un bel po'... Adesso tu lo afferri... Lo grabbi a pieni ma... E te lo porti più vicino! Perché hai scassato a Wallerac! Eccolo qua! Va bene! Perfetto! Troppo vicino! Denti parla bene perché mi sembra più lontano di prima! Era veramente troppo vicino! Ti avrei spaccato i simpanismi! E poi Cico con le sue dita! No 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 scusami! No le dita gliel'ho staccata! Adesso faccio un po' delle dita! Mamma mia! Ho degli stossiccadesi! Ho delle dita adesso non sentire più niente! Te le stacco io a morsi e a sputi! Guarda che... No no non è vero! Eh! Faccio male io eh! Ti piacciono le mie dita? Le vuoi mangiare? Che schifo! Che schifo! No l'hai detto tu eh! L'hai detto tu! Cico sei imbarazzante fai schifo ma a nessuno piace qualcosa di te! Cioè ma scherzi ma... Allora ma così ma mi sa che un po' troppo... I capelli almeno le dita le uomini! Ma niente 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 niente! Alex poi non parliamo di te perché voglio dire sì... È un particolare infatti io sono bellissimo! Sei orribile proprio anche tu brutto proprio! Come ti permetti! Una bruttezza così! Dai ma così li ferisci nell'intimo! Si dice la bellezza dell'asino e la bruttezza dell'Alex! Proprio è palesemente! No! Perché? Vanno di pari passo eh queste due caratteristiche! Non lo facevo questo! Non lo facevo! Preparati! Ti mi hai incattivito e basta adesso! Eh bene io guarda sono tutto in armatura super figo! Wow sono abogassiano! Wow che bello mamma mia sono tutto calzato bellissimo! Sì sì sì! Vedi io ho anche i calzoni quelli! I pantaloni! Eh no no! Eh no my friend! Quelli sono parte dell'outfit! Sono parte dell'outfit! Oh è giusto è giusto gli donano anche di più guarda com'è bello! Outfit perché se no non sarebbero parte dell'outfit! Allora facciamo un po' di pulizia! Non raccattare la moneta insomma che schifo! Dai non ho una mela! Non ho una mela! Dai perché non c'hai niente! Dai! Devi avere le cose! Beh in compenso c'ha 13 morti qualcosa ce l'ha! Sì sì bravo! E di bravo! Però cosa ce l'ho sempre! Sì sì sì! Allora fammi testare un attimo questo perché non so quanto è forte! Ok è molto! È potente! 4 o 5 è morto! Ma sono morto! Basta basta! Ma non pare così forte! Allora siete pronti avete commerciato tutti i my friend? Prontissimi! Commerciatissimi! Allora siccome ho notato che durante i round visto che noi facciamo uno contro uno contro uno contro uno no? Tutti vi mettete in mezzo alla Waller e questa cosa qui non va bene chiedo scusa per la vulgarità! Dimmi tu tutti contro tutti ti prego! No secondo me facciamo sempre uno contro uno però chi non è durante l'uno contro uno se deve scassare fuori! Guardate qua! Va fuori vado fuori! Ma prima di cominciare con questo c'è una novitizia che vi voglio dire! Oh dimmi questa novitizia! Ti prego è quella che stavo aspettando! Che cos'è questo qua? Questo qua è il nuovo gioco di card collezionabili! Oh mamma mia! Ma è bellissimo! La Ionco! Quella nuova è bellissima! Questo è l'album naturalmente ed è bellissimo! È ambientato nella serie della sopravvivenza estrema che noi adesso stiamo facendo in giro per tutti i biomi e le cose strane ma prima facevamo nel deserto, nell'artico eccetera eccetera e adesso guardate qui guardate qui un pacchetto! Ma lo stai scattando? Ma le stai prendo uno? Le stai prendo? No le sto toccando! Le stelle potesse le stai prendo! Sono così belle li trovate in edicola ragazzi dovete sbagliarla! Ma io ho sentito dire che tipo ci sono delle rarissime carte firmate da te! Brava! Cento carte tra la più rara sono autografate di mio pugno da me! Se avete la fortuna totale beccate quell'autografata ragazzi! Le tiri erano quelle là! Allora io vado a svaliggiare tutte le edicola adesso ma corro! Ne apro subito uno! Questo tra l'altro è il secondo set! Il secondo set del primo ve lo ricordate quello della crociera! Questo è il secondo set! Tra l'altro il primo fu un successo atomico! Quindi anche questo ragazzi che ve lo dico a fare dovete prenderlo tutti! Dovete completare l'album mi raccomando! Allora partiamo subito dalla più rara che c'era dentro! Guardate qua! La spada infuocata! Oddio! Oh lo shine! Quella è super mega rara! Oh lo sale proprio! Poi c'è Alex con torcia! Guarda come sei scintillante! Wow scintillo di brutto! Oddio! Alex in tempesta di fulmini ed è tutto lucicante! Oh no! Ma è tutto Alex! È bellissimo! Ma è un po' che è un autico quello! Uno stre tutto povero con l'acqua in mano brutto tutto! E infine questo bellissimo il kit protezione solare! Con il cappellino l'aioni con gli occhiali e la crema! Che carino! Sono bellissime ragazzi! Però adesso non c'è più tempo! Bisogna iniziare a backstarsi! Backstarsi quindi ci backstiamo subito! Inizierò con te! Ok? Io sto già pronto! Sì io vieni via! Voi via via via! Tutti via 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 via! Sei pronto? Sono prontissimo Lai! Inizia io sono già pronto! Vai Lai io mi faccio il tifo! Vai Laion! Vai che è il tuo momento! Vieni qui! Vai vai sparo sì! Vience! Non ti aspettavi questa mossa divina! Ti stai facendo esplosizioni! E tu non ti aspettavi questo acimunnavigamento atomico! Acimunnaviga questo sì! Fa malissimo fa malissimo fa malissimo! Ti sta piacendo questo acimunnavigamento? No non mi sta piacendo! Non l'ho fatto valutare! È incattivito dalle tue morti! È vero è vero! E guardate dietro! Nono malus! Ce l'ho anch'io eh sai! Ce l'ho anch'io! Ci stai rimettendo in tutto eh tu! Dai vience vience! Dove stai andando? Riccola! Toh! Toh! No! Non riesco! Scarico scarico scarico! Scarico tua madre! Scaricamento! Toh! Non mi sei attento a prendi copertura! Toh! Pozione della... Ah! Uh! Ryan! È stato doloroso! No! I giocchi di pantaloni! No è stato doloroso! Allora! Queste richieste! No cico! Dai ti prego! Anzo contro Alex! Eh eh! Wow! Facciamo un solo... Alla meglio delettra! Va bene va bene! Eh perché c'è meno tempo quindi abbiamo perso tempo però non era perso! Non era pronto io! Era ben investito perché vi devo far vedere queste bellissime card in edicolo bellissime che già trovate tra l'altro eh quindi cosa aspettate? Appena finito il video zoom come dei... Wow! Come della catapulte dovete andare in edicolo! Sei pronto? Vai! Ah! No! Tommi partito via! Ah! Mi guarisco perché sei forte! Sembri forte! Sembri forte! Sembri forte! Bisogna vedere se lo sei davvero o se tutta fuffa e niente arrosta! Io scappo! No! Quello non vale! È dietro l'albero infame! Vieni qua! Vieni qua! C'è un codardo si nasconde! Tu vai faccia faccia invece! Ah! Non ci vero più! Ma c'è un raggio della madonna! Quasi indecente! Quasi indecente! Tiè 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 tiè! Ma è che ce la puoi fare? Sei tutti noi! Eh! T'ha fatto male queste bombette! Facci col bastone il bastone! Il bastone! No! Il bastone non è buono! Ciccus! No! Non lo prendo! Non lo prendo! Gli provo a andare con questo! Gli do con questo! Oh mio Dio! Mamma mia! Ma cos'era? Verosissimo quello di Galus! All right! E' stato invento attivo! First place! Adesso però c'è Anna da uccidere! Forza Anna! Sì sono io! Sei pronta? Dove sei? Pronta! 3, 2, 1, os! Via! Via! Con grande cattiveria! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Sono la mia pistola laser! È molto buona! Che ti faccio spinghi binghi! Infatti! No! Faccia il muro! All right! All right! Switch Weapons! Lion Mindy Zipkrat! Che mi ha regalato l'aionico! Quella è ruttissima! Attenzione! Quella è molto buona! Quella è molto buona! Devo stare in guardia! Io non ne ho più! Quindi potrebbe... Stava cedendo le magie addosso! Attenzione! Aspetta però! Aspetta però! Perché io posso andare con questo scettro della Madonna! Lascia più! Non lo scettro è potente! Pazzesco! L'ultimo stretch archetska! Ah! Ho mancato il colpios! Ma sono ancora bello! Bello pesante! Ok! Ok! Eccolo qui! È vero! Però accetto la sconfitta! Va bene! L'accetto! L'importante è aver ucciso Alex e Chico! Quello non avrei accettato! Grazie mille! Guarda! Grazie! Quello mi sarebbe stato proprio fastidioso! Però Anna posso accettare di aver perso contro di lei! Grazie! Grazie! Per oggi ci fermiamo! Voi ricordatevi di andare in edicola subito! E comprare sopravvivenza estrema laionica! Le card laionica e sopravvivenza estrema mi raccomando! Senti come fanno cicchi cicchi bello! Per oggi ci fermiamo! E da Lion out! Ciao!